Musica Bentornati a Qua la Zampa Ricorro un anno da quando siamo partiti con questo viaggio Un viaggio con voi e per loro Un viaggio per il quale posso dire di averne viste di tutti i colori Per chi ci segue da sempre Eravamo in Slovenia, nel canile di Capodiste Eravamo nel rifugio Assad, eravamo in Gattile Eravamo con tanti amici, con chi cura gli animali Con chi fa sport con gli animali Con chi addestra gli animali Ho scelto Piazza Unità oggi Per questa ricorrenza di un anno di Qua la Zampa Per raccontarvi una storia Una storia un po' triste Solitamente tutte le storie triste le abbiamo un po' tramutate In storie felici Questa volta gli esiti Vedremo quali saranno Una storia un po' triste perché Perché riguarda, e ho scelto Questa situazione di Piazza Unità Di Trieste Perché è una storia che coinvolge Triestini Primo motivo Secondo motivo perché se è vero che l'amore non ha confini L'amore per gli animali E anche rispetto per la vita E con noi è venuta a trovarci Alessandra Marchesic Volontaria E Dio solo sa in tutti i contesti quanto importanti sono i volontari Ciao Alessandra Ciao Cristina Grazie Cristina di aver dato di nuovo le possibilità Zampa di cuore Italia Di approfittare Di dargli un po' di visibilità Allora Che cosa accade? Qual è la storia che vi vogliamo raccontare oggi? Una storia che vi accompagnerà anche con delle immagini Delle immagini che sono state girate Alessandra testimone perché era presente A Bagna Luca A Bagna Luca in Bosnia Una piccola delegazione della nostra associazione È andata giù dal 19 al 21 aprile E purtroppo abbiamo visto delle cose tremende e incredibili Abbiamo scelto di andare fisicamente per vedere Perché sono 4 anni che diamo una mano a questa associazione È per poter fotografare tutti i cagnolini che aspettano ancora in Bosnia E dargli un po' di visibilità Perché si dice che questo sia un canile lager questo della Bosnia? Perché da questo canile non esce nessuno Perché prima di tutto non ci sono foto Quindi senza una foto non si può dare la visibilità ai cane E purtroppo dentro questo canile sono tenuti tutti insieme Cuccioli, anziani, adulti E si può capire come va a finire Allora voi siete andate E per fare che cosa? Che cosa siete riuscite a fare? Noi siamo andate per portare cibo e medicinali Perché purtroppo in questo periodo stanno morendo le cuccioliate A causa delle varie infezioni intestinali e di parassiti Siamo andate giù per portare cibo Perché c'è sempre... non c'è cibo Se non ci fossimo noi le donazioni delle persone che ci aiutano Morirebbero tutti di fame Ecco, tu sei accompagnata adesso da chi? Io sono accompagnata da Pablo Anziamo Pablo Pablo è uno dei piccoli che sono riusciti a vincere il biglietto Verso della speranza e partire da Bagnaluca Pablo ha dieci mesi e Pablo cerca casa Allora la situazione è Pablo ma quanti altri oltre a Pablo sono là? Nostri nei nostri rifugi 116 E nel canile Lager di Bagnaluca 280 280 canni di tutte le età Di tutte le età, di tutte le razze, di tutte le grandezze Una disperazione Cristina Io sono andata via col cuore spezzato Che cosa possiamo fare allora per dare una mano, aiutare questa situazione? Per dare una mano prima di tutto si può stallare Quindi prendere temporaneamente a casa uno di questi cuccioli e farli partire di là Quindi farli sopravvivere perché la gravità è che muoiono lì Perché non ci sono né medicinali né cure e pochissimo cibo Noi facciamo quello che possiamo ma sono sempre tantissimi 280 cani là ancora e messi come? In che condizioni? Tenuti tutti in un'unica gabbia All'aperto, sotto il sole, al freddo, con poco cibo, poca acqua C'è un unico guardiano che guarda tutti i cani di Bagnaluca E quindi indistintamente che questi siano malati? Indistintamente, loro lì aspettano solo di morire Almeno che qualcuno come noi non si interessi Noi siamo riusciti a fare delle foto a qualche cane Uno sono molto felice, li ho già trovato a casa Arriverà l'8 maggio, però ce ne sono tantissimi Noi chiediamo aiuto a tutti i cittadini di Trieste Che sono sempre stati molto vicini alla causa degli animali Aiutateci, stagliate, donate un po' di cibo Basta anche 5 euro per cambiare la vita a uno di questi cagnolini Ecco, il numero che vediamo in sovraimpressione È un numero da chiamare per rendersi disponibili in questo senso Esatto Grazie Alessandra e a tutte le volontarie di Zampa sul Cuore Italia Per quello che fate Grazie a te Cristina di darci questa possibilità Ne sarà valsa le appena se anche solo uno dei nostri cagnolini potrà arrivare a Trieste Allora, grazie a questo volontariato Che è guai se non ci fosse al mondo In tutte le situazioni ambientali, per gli animali, sociali Tutto quello che è volontario E quello che è forza umana Spesa per fare del bene Grazie a voi per l'ascolto Qua la zampa